Ok si punzi. Dove vai? Deficiente. No, 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 no! La uccidi così, poverina. Dove stai a andare? Dove vai? No, 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 mi dissocio. Aspetta, Dave. Ma io? Così? Sì, vai. Cazzo. No, Dave. Ah, che male. È morto, no, Dave. Bravo. Oh, shit. No, 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 no. Minchia. Cazzo. No. Man down, man down. Oh, tizio. Oh, regà. Ci stavo rimanendo. Dove passiamo? Andiamo dritti o giriamo di qua a sinistra? Allora, io sulla porta che ho scritto come inside, non me la sento neanche se mi faccio. Maro, sono tutto morto. Maro, che faccio in me la discoteca che è questa? Ma che è? Quella di Briatore? No, grazie. Cazzo. Ma... Che ne era uno alle spalle, regà. Ma era un civile o un armato? No, era armato. No, era armato, ma era uno della... Della sicurezza. No, scusami. Ma che cazzo. Eh, però era armato. Eh, io cosa... Eh, scusate. Eh, era inarmato, eh. Eh. Ne ho uccisi due. Secondo me ci figlia per il culo, zi. Aspetta che tolgo con la musica che mi sta dando un fastidio. Si è rialzato col figlio di... Mica, l'ho visto nella tua cam. Ma fa paurissima. Che succede? C'è un tipo dietro la porta. L'ho guardato... Aspetta, aspetta. Metto la carica, metto la carica. Che aveva un M4 in mano, una roba così. Che paura. Come cazzo? Perché non posso... Aspetta un secondo. Mi scusi. Lei? Venga con me prima che le sparano addosso. Venga l'antimo. Eh va. Bravo. Guardi. Sta a vedere che i doghi salta in aria. Non riesco... Non riesco a mettere... Del tipo che ci diamo una spallata, io zio, lascia fare al nostro esperto di esplosivi. Doghi, non ero su tutto il corso. Ma perché non mi fa mettere il C4 qui? Ma perché io non posso vedere la missione? Ah, ecco. Coltab. Sono un coglione, scusate. Vabbè, abbiamo trovato il music producer. Sì, è vero. Doghi, hai bisogno di una mano. Doghi, vuoi che la fucilate la risolviamo? No! No, Doghi! È vero che si nascondono pure, eh? Credo di aver trovato dell'esplosivo e attaccato la porta. Oh, cazzo. Ma se... No, zio! 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 Basta guardare porno, mannaggia. Non ho niente di male in queste cose. No, però avevo ragione. Io ho super... Aspetta, qui c'è... Ah, no, no, aspettate. Non avete scritto solo nella doccia. Non avete visto i trofei qui, raga? Ma che cazzo i trofei sono? Guarda. Ma uno è un cazzo. Sì, ti arrivo un cazzo nel pugno. Ma... È bellissimo. Potrebbe essere... Potrebbe essere un partito politico, tranquillamente. Il simbolo di un partito. La micchia nel pugno. Sì. Esatto. Faccio un po' di cardio. Dove siete? Sto facendo cardio, io. Ma perché? Perché? Guarda, guarda lo zio. Guarda. Lo sapevo, lo sapevo. Ho detto copritemi, copritemi, perdito. Posso risbirciare sotto? Per Dio, copritemi. Oh mio Dio. S'ha reso, s'ha reso. L'altro no. L'altro no. Ha fatto... Che ha smudellato. Ok, ok. No, no, si può fare, si può fare. Non è così complicato. Sembrava Chaki nei guni quando spiega il vomito. Ma perché sta cacata? Ma non lo so. Ci vuole far sparare. Cioè adesso ha allertato tutti i terroristi nella zona, capito? Allora... Andiamo adesso. C'è un terrorista caldo a tre chilometri da te. Stia da dietro. Sono morto. No! Ma è un incubo! Anch'io. Ciao. E la madonna. No! Sono finito sotto la mappa! Come? Ma... Raga! Dave? Dave? È vero che è il bianco dalla sua telecamera. Non vi avvicinate i muri. Non vi avvicinate i muri. Perché? Perché finite sotto la mappa pure voi. È vero! È vero! È vero! Ah, questo io ho sparato attraverso il vetro, questo qui. È stato un momento della giustizia sommaria. No! No! Va bene. Io non l'ho vista. È andata. Stava tirando fuori un'arma. L'ho visto, l'ho visto. L'ho visto, capitano. L'ho visto, capitano, l'ho visto. È vero! Era solo caduto. Scusate. Ok? Perché devo fare una cosa. Polizia! Hande in the air! No! No! Ok. Verremo... Verremo giustiziali per questo. Io l'avevo predetto, eh. C'era scritto... Allora, il titolo della mia live è... 104esima in servizio, due punti degradati con onore. Aspetta, ti passo davanti, occhio. Si è arreso. Si è arreso. Minchia, c'è, gli ho sparato. No, era un civile! Era un civile? Cazzo... No, non è vero. Minchia, era un medico, poverino. No! Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Ho paura. Era l'unico che poteva salvarmi, il medico. Ragazzi... Io... Lo faccio per te. Che c'è? Non hai visto niente. Mi ha detto, fa un chitarro la canzone... No! No, chi? Non è colpa mia. Ho visto, ha acceso la telecamera in quel sistema. Non è colpa mia. No! 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 No, doggy mi ha ucciso! Mi hai fatto spaventare, zio! Perché mi ammazzi sempre tu, alla fine? Ma perché tutte le volte? No! Raga! Ma usa le telecamere, come faccio io! Ma le usa, però ce l'ho su Dave! Capito? Cazzo! Sì, ma non mi impuntare qualcosa addosso, doggy! Non mi hanno dato neanche una degna sepoltura. No, no, no! Anche la sciatola di assanghera. Eh, non mi hanno preso dai... Guardami là, per terra, la porca! No, porca troia! Guardami! La degna sepoltura è buttarlo tra le pareti e farlo glicciare malissimo! Anche la